Si conclude lo stage di fine anno organizzato dalla nuova Andrea in collaborazione con l'SD Icaro. Dieci giorni in cui tanti ragazzi, circa 200 grandi e piccoli, si sono avvicinati al mondo del leone andriese mettendosi in luce in vista della prossima stagione, quando ripartiranno le attività della scuola calcio del settore giovanile. Il bilancio dell'esperienza estiva è più che positivo. Uno stage che ha coinvolto circa 200 bambini e ragazzi, ovviamente per i più piccoli è stato un gioco, quindi si sono divertiti nei campetti che noi qui abbiamo a disposizione al Giulio Cesare ed è stato anche un confronto per i più grandi, perché ovviamente si sono ritrovati sui campi confrontarsi con tanti ragazzi nelle varie situazioni di gioco. Lo spirito importante in questo stage è stato il gioco, il divertimento, quindi la socializzazione, ma una cosa importante è anche la selezione dei ragazzi che ovviamente sono stati visionati dai vari mister che si sono insomma susseguiti durante lo stage proprio per la prossima stagione sportiva. E proprio in virtù della prossima stagione sportiva in programmazione, quali sono le strutture che la Nuova Andra Calcio metterà a disposizione per la scuola calcio? Gestirà questa struttura, quindi diciamo lo sport village ex Giulio Cesare, gestirà anche la parrocchia delle croci, quindi l'oratorio Sant'Animare Maria di Francia, gestirà l'oratorio di Sant'Andrea, come l'anno scorso l'oratorio di San Riccardo a San Valentino e gestiremo anche il Santissimo Sacramento, quindi una realtà che l'anno scorso ha visto coinvolti all'incirca 400 ragazzi. Ovviamente per ultimo gestiremo l'ottagono per quanto riguarda il settore giovanissimi e allievi con la categoria Juniors. Staff di grande importanza con preparatori atletici e tecnici che da anni fanno parte della famiglia Nova Andria. Non poteva mancare naturalmente il tecnico della prima squadra delle ultime stagioni, Cosimo Sinisi. È stato bello, è bello perché loro hanno tanto da trasmetterti e io ho portato soltanto un po' di serenità quando c'erano delle bazzuffole tra di loro, però tutto sommato è molto divertente. Si continua a puntare quindi sui giovani anche per il futuro? Come no, è necessario puntare sui giovani, è necessario portare sempre nuove prospettive, nuovi sogni a questi bambini perché poi alla fine sono loro il futuro, il futuro del calcio. Tutto sui giovani dunque anche per il futuro e gli stessi ragazzi sembrano avere un solo obiettivo in vista della prossima stagione. È stata magnifica questa esperienza perché abbiamo avuto anche il piacere di confrontarci con i più grandi e soprattutto con mister molto più preparati. Per te era la prima volta? Sì, per me è stata la prima volta ed è stato bellissimo. La prima volta per te questa esperienza, com'è andata? È andata molto bene ed è la prima esperienza che ho fatto. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto vari esercizi. Mi è piaciuto molto stare in questa società perché sono stato per sette anni qui e penso che continuerò qui. Ecco, com'è il tuo rapporto con gli altri ragazzi, con il mister e lo staff? Molto bene, sono social, posso giocare, non ci sono gruppi, siamo tutti uniti.